segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te assolutamente questi sono cattivi davvero è gente brutta faremo sì che le loro capacità di acquisto e di potere il potere in generale sia ridotto grazie alle nostre sanzioni questo documento di cui ho chiesto la firma oggi infatti va ad accelerare il sistema che ci permette di confiscare o bloccare i loro beni quindi un sistema che va a colpire direttamente questi oligarchi russi in più ieri la russia ha minacciato due dei nostri alleati tagliando loro le fonti di energia di fonti di combustibili fossili per fortuna noi siamo riusciti a a far fronte a questo problema perché abbiamo altre fonti nella nostra nazione purtroppo alcune nazioni europee non hanno la stessa fortuna la russia però è famosa e si sente importante per essere una fonte di combustibili fossili di energia in cui di cui tutti si possono fidare affidabile e attendibile questo però come abbiamo visto non è più il caso in questo momento abbiamo visto che proprio questa risorsa così importante imprescindibile è stata usata come arma contro altri stati vicini vogliamo essere chiari non chiari non lasceremo che la russia ci intimidisca o che ci minacci con questo tipo di azioni e di minacce perché questo sono stiamo facendo tutto il possibile per sostenere i nostri aiuti alleati europei contro questa minaccia che è stata fatta con mezzo di interruzione di forniture di gas e combustibili fossili le minacce non vinceranno non si minaccia